In Fondazione CRT si cerca di scongiurare il commissariamento, ma il tempo corre. Le clamorosi dimissioni dalla presidenza di Fabrizio Palenzona e del segretario Andrea Varese danno infatti a lente solo 30 giorni di tempo, secondo statuto, per giungere ad una nuova nomina. Ma prima bisognerà rispondere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che qualche giorno fa ha chiesto chiarimenti in merito agli ultimi atti approvati in seno al Consiglio di Amministrazione e ai presunti patti occulti fra alcuni consiglieri denunciati pubblicamente dallo stesso Palenzona. Pronto a collaborare, informeremo sui fatti. Il CDA di Fondazione CRT, convocato per domani, 30 aprile, preso atto delle richieste fatte per venire dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il suo presidente ad Inter, Maurizio Irrera, procederà quindi alle operazioni necessarie per fornire all'autorità di vigilanza tutte le informazioni e gli atti richiesti. I membri del Consiglio, in una nota, hanno anche espresso un sentito ringraziamento a tutte le funzioni e ai dipendenti di Fondazione CRT, che pur in un periodo complesso, dicono, stanno garantendo il normale funzionamento delle attività e soprattutto il costante flusso di erogazioni a supporto del territorio. Il commissariamento dell'ente porterebbe infatti all'azzeramento di tutti gli organi di gestione dell'ente e, ipotesi particolare ma non remota, è anche che commissario possa essere nominato lo stesso Fabrizio Palenzona. Dopo il CDA del 30 aprile, il nuovo Consiglio di indirizzo si riunirà il 7 maggio. Lavoro frenetico, quindi, in questi giorni, per arrivare in quella riunione con una lista di nomi tra i quali eleggere il nuovo presidente. In caso contrario, si spalancherebbero le porte ad un commissario nominato direttamente dal Ministero.